Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video per il vostro X-Brizz oggi andiamo a parlare della Coppa Davis, qualificazioni Slovacchia contro Italia qualche giorno fa avevo espresso le mie analisi e tutto quello che ne pensavo di questo incontro anzi di questi diversi incontri e non avrei mai immaginato che l'Italia potesse poi andare a vincere e quindi qualificarsi con un 3-2 che è praticamente al limite e ci sono rimasto abbastanza male, però bisogna ringraziare comunque Yannick Sinner che dopo un po' di spavento che ci ha fatto prendere alla prima partita, alla prima giornata contro Gombosch, che poi si è andato al terzo set io dopo che avevo visto quel secondo set dove alla fine lo ha perso ho detto eccolo lì, poi vedevo Yannick che faceva qualche erroretto però dai, sono stato felice, anzi fortunatamente Yannick Sinner ha vinto poi quel match contro Gombosch perché poi successivamente Lorenzo Sonico non ha più giocato contro Alex Molcan ma contro Filippo Ransky Sonico ha praticamente perso 2-7 a 0 ho qui la scheda ecco di Sonico contro Ransky ma è qualcosa di ieri sera ho visto la partita ho fatto, vogliamo fare un'analisi detto meglio da no perché poi veramente Sonico ha quei momenti in cui perde decisamente la testa e molte volte gli sta succedendo questa cosa comunque anche negli ultimi tornei l'abbiamo visto anche tutta la rossa dove magari perde la testa, perde il primo set e poi si perde totalmente nei vari colpi perché abbiamo visto dei colpi e soprattutto dei servizi che non vanno assolutamente bene primo set un bel tie break dominato da un Ransky che stava praticamente sopra 5-0 poi l'ha andato a portare a casa e nel secondo set invece da che Sonico abbia subito breakato Ransky poi va a perdere per due volte di fila del servizio e la fine lo sappiamo tutti come è andato a finire quindi qua 2-0 e va bene ho detto vabbè dai uno pari ci può stare magari Sonico ha avuto quella giornata che abbiamo visto ripeto negli ultimi tempi ok c'è il doppio io il doppio pensavo che sarebbe stato qualcosa di facile stavo giocando comunque contro un Polasec e uno Z, la Nike cioè tenisti che forse conosco Polasec l'ho visto qualche partita ma non pensavo così però mi va a perdere al tie break poi 2-1 la coppia non era Bolelli-Travaglia ma era Bolelli e Yannick Sinner prima di partecipare poi al singolare ha giocato prima il doppio primo set 6-3, il secondo 6-1 per noi e poi al tie break questa volta si arrivava a 7 non c'è il super tie breakone 7-3 per i tenisti in casa perché alla fine loro stavano, si è giocato a Bratislava quindi giocavano anche in casa però in questo momento ci troviamo 2-1 per la Slovacchia poi Yannick Sinner ha partecipato a un altro singolare questa volta è andato a scontrarsi contro Filippo Ransky che è vinto contro Lorenzo Sonico 7-5, 6-4 per Yannick Sinner dopo un po' di spavento iniziale visto che nel primo set è andato subito sotto di un break è riuscito poi a risalire la china e andarsi a prendere addirittura il set senza nessun tie break eccetera e poi gli è passato praticamente un solo break all'inizio a Sinner per chiudere anche il secondo set e va bene così quindi grazie a Yannick perché veramente senza degli Yannick saremo già stati eliminati e buttati fuori e adesso arriva il momento clou quindi Musetti contro Gombosch su due pari partita in cui Volandri ha scelto Musetti e non Sonico è stata una partita incredibile, difficilissima io stavo veramente con le palpitazioni dal tie break del primo set a tutto quello che ha giocato bene Musetti nel secondo e poi tutto quello che è successo al terzo set io sono felice per Musetti perché i giornali andranno a dire Musetti batte Gombosch e poi l'Italia vola in Coppa Davis quindi questa vetrina che secondo me è molto 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 importante per Musetti anche per farlo crescere e quindi niente ragazzi vabbè 3-2 passiamo e l'importante era passare senza Berettini, senza Fugnini è stato complicato però vabbè un po' di sfortuna nel doppio Sonico che ha avuto la giornata sorta grazie agli anni che Musetti che poi la va a chiudere ripeto con tante difficoltà però ci ha fatto godere perché questa vittoria è arrivata poi all'ultimo io vi do un bacione ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi due giorni come vi è sembrata l'Italia lasciate un bel like commentate iscrivetevi noi ci vediamo lo so con Indiana Wells adesso penso e bello a tutti